Buonasera amici miei, io adesso vi mostrerò come risparmiare il sugo. Ecco, partiamo dalla nostra capsuletta, questa è la nostra capsula già usata, sigillata. Già usata o sigillata? È già usata ma è sigillata perché è il caffè che noi compriamo. Allora, il vostro tanino vi mostra come aprire una capsula. Noi l'apriamo, così, lentamente, ok. Abbiamo aperto la capsula, abbiamo del caffè già usato. La ripuliamo esattamente come si ripuliscono le tazzine del caffè. Prendiamo dello scottex, asciughiamo la nostra capsuletta, ok. Ok, vediamo il necessario, il nostro caffè. Questo in questo caso è un deck? È un deck, visto che il nostro amico Christian vuole il decaffeinato, noi gli facciamo il decaffeinato. Mettiamo il caffè dentro la nostra capsuletta, andiamo a ricreare. Comprimiamo il caffè fino al margine, così pulito. Prendiamo il nostro tappino, lo rimettiamo nella sua posizione d'origine. Lo chiudiamo, abbiamo ricreato la capsuletta a 35 centesimi di capsula. Riprendiamo la nostra macchina del caffè. La premiamo in riscaldamento per 3 secondi, la rispegniamo. Ok, il nostro caffè. Abbiamo un bicchierino in vetro per mostrare... Ora, mostriamo tutto, un attimino. Ok. Quindi sempre la stessa capsula ricicletta. Capsuletta messa lì. Prendiamo un bel bicchiere. Siamo pronti. Ecco il nostro caffè da bar. Potete notare la schiuma, la sua essenza favolosa. Ok. Vediamo come questa schiuma arriva al nostro estremo. Questo è il nostro caffè. Ah, che c'è una fuschia in disordine, che state facendo? Maria, che scusate. Che meraviglia.